Problemi di infiltrazioni d'acqua rischiano di compromettere la stabilità di un edificio di via Sassari, traversa di via Beneficenza Mendola a Favara. La segnalazione ci è giunta in redazione da parte del proprietario della casa, il signor Giuseppe Veneziano Broccia, che ha chiesto la presenza delle nostre telecamere per testimoniare lo stato precario in cui versa la strada. Noi, come sempre, abbiamo voluto dare voce ai cittadini e ci siamo recati sul posto. Attualmente la parte alta di via Sassari presenta un derrapieno per il cui attraversamento è stata costruita, a margine della stessa, una scaletta larga non più di 90 cm. La restante parte di larghezza della strada, circa 12 metri, non è protetta da nessun muro di contenimento e con il trascorrere del tempo e le piogge la terra frana e tende a scivolare investendo la parte buona della via. Secondo quanto riferitoci da diversi residenti di via Sassari, il problema è stato più volte segnalato al comune, ma ad oggi non è stato ancora risolto. L'area interessata si presenta ricca di vegetazione spontanea che, soprattutto in estate, porta alla presenza di zanzare e ratti. Diverse infiltrazioni d'acqua, dice il signor Veneziano Broccia, avrebbero contribuito alla formazione di due grosse voragini nel terrapieno che allo stesso residente, per evitare pericoli ai tanti bambini che abitano e giocano in quella via, ha coperto con del materiale di risulta. In via Sassari c'è un problema che sussiste da diversi anni, di che cosa si tratta? Diversi anni, di quando c'era il sindaco di Ro, ce l'ho detto sì 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 e non l'ha fatto nemmeno. Ora c'era il signor Russello, ce l'ho detto sì sì la dobbiamo fare, dobbiamo fare, aveva due anni che lui è sindaco, ancora niente. Che cosa chiedete? Chiediamo per trovare il pericolo di bambini e di quegli anziani, eppure ci sottopi così. E mi diceva che l'ufficio tecnico è al corrente del problema? Lo saranno sì tutti, al comune di Favara lo saranno tutti che ci hanno voluto a guardare tutti. E mi diceva che da quando abita qua questo è stato sempre un problema? Sì, sempre così è stato. E quanti anni sono? Ma quando abbiamo costruito i calcati? Vent'anni, trent'anni, non so quanti, ma sempre così è stato. Da segnalare anche che il terrapieno in questione è attraversato dalla condotta fognaria, a testimoniarlo è il tombino presente sulla scalinata. Quest'ultima, forse a causa della spinta prodotta dal terreno, si presenta abbastanza sconnessa, rappresentando un vero e proprio pericolo per i passanti, in modo particolare per le persone anziane che in quel tratto sono state spesso vittime di cadute, come ci riferisce la signora Francesca Graparo. E in questi giorni è successo pure un evento spiacevole? Sì, è successo che è scesa una signora che andava a fare la spesa lì sotto ed è caduta. Meno male con sufficienti, ma no, aveva problemi.